Sono Ludovica Ioppolo e vi racconto di quando io e i miei colleghi della sede Istat della Sicilia abbiamo accompagnato gli studenti dell'Istituto ENAO di Pareto di Palermo nella realizzazione di una vera e propria indagine in statistica sul benessere a scuola. Prima di tutto abbiamo costruito il questionario, individuando insieme ai ragazzi le domande più adeguate a rilevare le diverse dimensioni del benessere. Abbiamo poi definito il piano di campionamento e gli studenti sono sperimentati come intervistatori, somministrando il questionario web tramite smartphone a ben 200 intervistati su 700 alunni. Una volta completata la raccolta dati sul campo è venuto il momento dell'analisi e presentazione dei risultati davanti a compagni e professori, mettendo in evidenza gli aspetti più critici su cui lavorare per migliorare il benessere a scuola. Come ci ha detto già da una delle studentesse, proprio questa è la statistica. Mediante una raccolta dati, le tabelle e i grafici è possibile vedere l'andamento di un fenomeno, nel nostro caso scolastico.